Lo ripetiamo sempre ad ogni presentazione, però forse questa edizione è quella che più rappresenta lo spirito con cui abbiamo voluto regalare alla nostra città il fuorisalone, il B-Off. Un'edizione straordinaria, per la prima volta regalerà una casa, la Green Factory, al nostro fuorisalone dove si articoleranno tutta una serie di eventi, di intrattenimento, di arte, di musica, di cultura, di approfondimenti tematici sul tema della sostenibilità, della green economy, dell'ecologia. Ci saranno dei momenti di incontro che vorranno lanciare soprattutto un messaggio di responsabilità su un tema come quello dello sviluppo ambientale e industriale, ma certamente anche di grande fiducia perché ce n'è veramente bisogno. Tantissime iniziative che trovate nel programma, io devo ringraziare ciascun partner che ci aiuta a rendere realizzabile tutto questo e oggi c'è stato anche un briciolo di emozione nell'anticipare l'ultima mostra diffusa del nostro mandato che vedrà Lorenzo Quinn, il principale interprete della scultura figurativa a livello mondiale, caratterizzare a Vicenza una esposizione che veramente ci riente d'orgoglio.